Ciao, sono Chiara, sono una terapista craniosacraria e una fisioterapista. Sono qui per invitarvi a sostenere l'Istituto Applegio Italia in questo momento così particolare per tutti. Attraverso le iniziative che ci verranno proposte. Io sono 13 anni che frequento l'Accademia come studentessa e come assistente ai corsi. La cosa che vi voglio chiedere in particolare è quella di sostenere l'iniziativa dei corsi online. In questo anno ho avuto modo io in prima persona di frequentarne uno e questo per me è stata un'esperienza arricchente, ma soprattutto ho apprezzato una cosa, la grande professionalità e il grande lavoro che c'è dietro la proposta del corso. Durante la parte teorica ho potuto approfondire gli argomenti che mi venivano proposti in maniera chiara e avendo la possibilità di far sedimentare i concetti. Questo mi ha servito tantissimo poi nell'affrontare la parte pratica in aula. Ho potuto fare più miei tutti gli argomenti che sono stati affrontati nella parte teorica. Quindi vi chiedo di sostenere in questo momento l'Accademia attraverso le varie proposte che ci farà perché questo ci permetterà di essere dei terapisti migliori e soprattutto di offrire alle persone che verranno da noi un lavoro di qualità. Grazie. 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 Grazie.